Siamo all'interno dell'Arsenale della Maria Militare della Spezia, questo è il nucleo armi che fa parte della sezione sistema di combattimento dell'Arsenale. In particolare questa è l'officina d'artiglieria e si occupa della revisione messa a punto di tutti i sistemi d'arma. L'officina è stata costruita nel 1864, era utilizzata come deposito legnami, poi nel 1865 è stata riconvertita in officina d'artiglieria. Il nucleo armi consta di 84 dipendenti, la maggior parte sono dipendenti civili. Sono un membro della squadra di armi leggere. Il settore artiglieria sono 54 dipendenti suddivisi in 7 unità operative. Questa è la lavorazione che noi facciamo sugli impianti di revisione completa di overall che ora stiamo facendo anche per la Marina Francese. L'Arsenale fa questo lavoro in permuta con la dita Leonardo che ha un contratto con la Marina Francese per il riprisino degli impianti. Le revisioni che svolgiamo hanno fruttato circa 2 milioni alla Marina Militare Italiana. Quindi si è appoggiata a noi perché sa che noi questo tipo di lavoro l'abbiamo sempre fatto in tanti anni e che lo svolgiamo con efficienza e accuratezza. Grazie a tutti.